Da una lettera di Santa Paola Elisabetta Cerioli Il Signore vi consoli in queste sante feste di Pasqua, con quelle consolazioni che versavano il cuore alle sante donne e ai primi discepoli che primi andarono al sepolcro. E chiedete alle donne e ai discepoli una parola anche per i bisogni spirituali e materiali delle nostre case, delle nostre famiglie, perché tutti abbiano un solo Spirito, lo Spirito del Signore. Dite a tutti che procurano dispogliarsi e lasciar nel sepolcro i loro difetti, per essere più agili ad accompagnare le pie donne e vedere e sentire quello che il Signore ispirerà al cuore. Ora termino, dovendo questo oggi stesso partire, la pace e la gioia vi animino per meglio servire ed amare il Signore ogni giorno della vostra vita. Paola Elisabetta Cerioli Buona Pasqua a tutti 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 Grazie a tutti